Intossicati dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa a legno, nella sostanza vengono messi in salvo dal capofamiglia che si sveglia nel cuore della notte e chiama i soccorsi. Si deve alla reazione dell'uomo se la scorsa notte nelle campagne di Civitella del Tronto sia stata evitata una strage. Verso le tre, nella frazione di Santa Croce, padre, madre e due figli di nazionalità marocchina hanno accusato violenti malori con vomito, vertigini e stato di spossatezza, i classici sintomi dell'intossicazione. I veleni sprigionati dalla stufa avevano infatti saturato l'ambiente e i quattro occupanti, prima il padre, poi la madre ed infine i due figli, avevano cominciato a sentirsi male. Contattato il 118, sul posto è arrivata un'ambulanza e i quattro sono stati trasportati all'ospedale Val Vibrata di Santomero. Le condizioni più serie sono subito sembrate quelle del figlio più piccolo che aveva un indice di tossicità nel sangue molto alto. Per tutti però è stato sufficiente il trattamento con ossigeno somministrato dai sanitari del pronto soccorso.